...del Ministero, nel vertici di ieri a Roma il Comune ha rilanciato la procedura per il riconoscimento del danno ambientale. Il Governo prende tempo. Marina di Gonnese e servizi su tre chilometri di spiaggia. L'assessore all'ambiente del Comune spiega ai nostri microfoni le novità e i problemi per la nuova stagione estiva. Tavola rotonda dei centri antiviolenza della Sardegna. L'incontro, previsto giovedì, è promosso dall'ex provincia Carboni Iglesias ed è finalizzato a creare una rete operativa tra istituzioni e organismi che operano nei centri. GS Barbusi, campionato di calcio in forse per le difficoltà economiche della squadra. Ai nostri microfoni il Vicepresidente Bruno Angioni. Benvenuti nel telegiornale di Canale 40. La situazione ambientale di Porto Scuso in apertura del nostro Tg. Ieri c'è stato un vertice al Ministero dell'Ambiente dove si è parlato di bonifiche. Gli enti di controllo tardano ad individuare i responsabili del danno ambientale. Ha così commentato l'assessore comunale Ignazio Azzori. I dettagli nel servizio. Il riconoscimento del danno ambientale richiesto oltre otto anni fa al Ministero dell'Ambiente. Ad oggi ancora nessuna risposta dal Governo. Il Comune di Porto Scuso, nonostante la documentazione presentata in tanti anni in sede ministeriale sui problemi dell'inquinamento dovuti all'attività industriale, non ha ancora tenuto il riconoscimento del danno che la popolazione e l'ambiente hanno subito nel tempo. Ieri nella conferenza di servizi che si è tenuto al Ministero, ha detto Ignazio Azzori, assessore comunale all'ambiente, abbiamo rilanciato la procedura con una mole di documentazione. Ma è chiaro che se questo danno venisse riconosciuto sarebbe quantificabile in diverse centinaia di milioni di euro. Gli enti di controllo non sono ancora riusciti ad individuare in maniera chiara di che sono le responsabilità. Ieri al tavolo ministeriale erano presenti, oltre ai rappresentanti del Comune, anche la Regione, la Provincia, l'ARPAS e i responsabili delle industrie di Porto Vesme. La conferenza di servizi aveva come oggetto i siti di bonifica di interesse nazionale. Il Ministero ha acquisito la documentazione relativa anche alle industrie che hanno elaborato analisi, risultati su indagini e presentato progetti di bonifica dei terreni, come nel caso dell'Alcoa. Questo progetto al Coa è stato respinto nel corso del tavolo ministeriale, ha spiegato Azzori, perché inizialmente prevedeva l'asportazione di 60.000 metri cubi di terreno contaminato presente all'interno dello stabilimento. Ma nel piano presentato al Ministero ieri i metri cubi erano solo 25.000 e il resto del terreno contaminato, ha precisato l'assessore, sarebbe dovuto essere coperto con 20 cm di argilla. Per valutare questo ed altri progetti, la conferenza di servizi al Ministero è stata aggiornata fra due settimane. Il peso delle servitù militari vissuto dai turisti. In questi giorni chi ha frequentato la spiaggia di Portopino è rimasto sorpreso, ma anche infastidito, dal rumore delle esercitazioni militari. Vediamo quello che è successo in questo servizio. Rumori assordanti, cannonate, le esercitazioni militari arrivano anche vicino alle dune di Portopino, tra i turisti spaventati. Nell'immagine vediamo i titolari di quattro stabilimenti balneari della spiaggia che si lamentano perché le esercitazioni non possono convivere con chi cerca la pace e la tranquillità dell'estate in una delle spiagge più suggestive del Sulcis. Qui davanti alla base militare, dove abbiamo fatto una richiesta formale al comando e abbiamo detto che qui dobbiamo convivere tutti. Noi siamo gli operatori turistici e in questo periodo dobbiamo lavorare con i nostri stabilimenti. La gente purtroppo si allontana e va via perché stanno sparando e stanno continuando ad esercitarsi. Che si esercitino in tutto l'inverno quando non c'è qui, non c'è nulla e non c'è nessuno, in attesa che se ne vadano per sempre. Ma nel frattempo, almeno nel periodo estivo, che smettano l'esercitazione. Vengo da Cagliari. Appena ho saputo che c'era, che si trovava qui, mi sono subito precipitato perché a parte il fatto che ritorno con il ragazzo perché sono di carbone. Però in un certo momento questa zona deve essere il contraspare di Villa Simil da l'altra parte. Non riesco a capire un paradiso come questo. Non è possibile. E poi non vedo nessuna coabilitazione, vedo un'apatia. Se loro, siamo capiti chi mi rivolge, se loro a un certo momento hanno agito in modo che la gente si stancasse, hanno raggiunto il loro scopo. Bisogna risvegliare la gente. Anche dal web arrivano i disagi vissuti nei giorni scorsi dei turisti, sempre nella spiaggia di Portopino. Nel social network circola in modo virale un video che un turista ha girato per documentare la sua esperienza. Oh, ma va che stanno sparando tanto, eh. Va anche là? È l'appasenato più grande, sei con l'appasenato più grande, proprio. Eh, ma ho sentito che stanno facendo un casino per chiuderlo. Non c'è del silano mai. Ma ci sono troppi soldi. Vieni da tutto il mondo. Ma che vengono da tutto il mondo a sparare qua. Oh, io devo andare qua. Tu sui metti, eh. Ma va che stanno arrivando qua vicino. E adesso andiamo a Carbonia. I cittadini ci hanno segnalato ancora altri problemi alle fogne. Questa volta a lamentarsi sono gli abitanti di Barbusi nell'angolo di via Battisti. Manolo Moredu è andato sul posto questa mattina. Vediamo le interviste. Siamo a Serbario in via San Narciso, angolo con via Cesare Battisti. Qui c'è un problema legato alle fogne. Allora, questo è un problema che esiste da sempre. È un problema che comporta ogni volta che piove, che è l'acqua della pioggia, perché ci sono dei canali, fra l'altro, collegati alle fogne, dei canali di fluviali, cioè di gronde, delle case, che fa uscire l'acqua. E facendo uscire contemporaneamente anche tutto ciò che c'è all'interno della fogna. Ma voi avete segnalato questo problema al comune? L'abbiamo detto mille volte. Allora, la fogna è intanto insufficiente, perché attualmente il Serbario è ingrandito. Sono i medaus che vengono dall'altra parte di Serbario di sopra e dall'altra parte del fiume, che sono collegati con delle pompe che mandano le fogne con delle pompe elettriche, che arrivano e sicuramente è insufficiente la vecchia fogna e quindi fuoriesce il tutto. Quindi sono diverse situazioni che si... Si accavallano. Signora, qua quando si tappa la fogna, cioè ogni volta che piove, cosa succede? Si apre quel tombino, un tanto così, saranno almeno 20 centimetri, esce fuori tutta la porcheria. C'erano pandoni... Guardi, qui adesso lo avete un po' pulito, ma l'ho pulito io un po'. Perché non faceva, non potevo neanche entrare dentro la casa se non ci mettevo i piedi sopra. E poi la puzza, devo stare sempre con tutta la porta chiusa, non posso aprire dall'odore che viene dentro. Cioè se noi ci brecchiamo malattie... Pericoli anche per l'igiene? Per l'igiene. E se noi ci brecchiamo malattie, noi chi ci guarisce? Chi è che ci aiuta a noi per dire voi vi siete presi la malattia per conto vostro? Il comune è intervenuto? Ogni tanto vengono questi a guardare, fanno, aprono, fanno non so che cosa, ci buttano un po' di acqua e poi vanno via. È vero, fanno così. Ma siamo anni, anni. Eh, lui ancora, sempre, sempre con questa cosa così, con questa pugna così. E i topi che escono fuori, una volta li ho dovuti acchiappare con l'aspirapolvere perché sono andati dentro. Inoltre volevo dire che una volta che la pugna va in pressione, allora spinge l'acqua all'interno delle abitazioni. Noi abbiamo lì, c'è il mio locale commerciale qua di fronte e c'è la casa di mia madre che è del pian terreno che praticamente si allaga perché l'acqua esce dalla doccia. Abbiamo dovuto mettere un tappo ma sistematicamente poi lo spinge, insomma non riusciamo perché l'acqua entra dentro le case. Marina di Gonnesa, un litorale lungo oltre tre chilometri nel quale si riversano nei periodi più intensi della stagione migliaia di bagnanti. L'assessore comunale all'ambiente, Ansel Caviddu, spiega ai nostri microfoni quali servizi sono stati attivati quest'anno. Vediamo. Il comune di Gonnesa per questi tre chilometri e mezzo di spiaggia di cui è formato il nostro litorale ha sin da subito attivato alcuni servizi. Primo tra tutti quello della pulizia dell'Arenile che inizia a primavera e si intensifica nell'approssimarsi della stagione estiva fino a diventare quotidiana nei mesi più caldi. Siamo riusciti anche quest'anno di concerto con la provincia con la ASL e con l'associazione Sosago di Gonnesa siamo riusciti a garantire il servizio di salvamento a mare che ormai è diventato un'eccellenza di questo territorio che copre tutti i tre chilometri e mezzo. Offriamo ai nostri visitatori la possibilità di stare nelle nostre spiagge garantendo loro alcuni servizi innovativi come la Dog Beach a Fontana Mare e soprattutto tutti quei servizi accessori che fanno sì che il bagnante possa fruire delle nostre spiagge in maniera comoda e ospitale. Parlo dei servizi delle docce dei voci chimici che vengono installati ogni anno sono tutti questi i servizi che noi offriamo. Le nostre difficoltà, se così si possono chiamare sono praticamente di natura economica perché un servizio così ampio come quello che noi forniamo ai nostri ospiti necessita di onerose risorse economiche che con i bilanci di questi tempi è sempre più difficile a reperire. Il gettito più o meno relativamente alla gestione dei parcheggi è intorno ai 200 mila euro. Come le utilizza il comune? Così come è previsto dalla normativa per tutte quelle opere che riguardano il rifacimento della viabilità e delle strade migliorare anche il servizio in loco relativo ai parcheggi. Rimaniamo ancora in tema di spiagge operazione Puliamo il Sulcis rastrelli, guanti e sacchi per pulire la spiaggia di Cala Domestica a Bugerru una delle più frequentate della zona durante la stagione estiva. L'iniziativa è stata emessa in atto dall'associazione sportiva Passione Pesca di Gonesa che insieme alla Capitaneria di Porto Scuso il Corpo Forestale Comuni di Bugerru Gonesa e Iglesias Associazione Verde Azzurro Pan di Zucchero e Lega Navale Italiana hanno pulito l'arenile. Nella spiaggia sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti trasportati per lo più dal mare e caricati da un trattore messo a disposizione dal Comuni di Bugerru. Pochi giorni fa l'associazione Verde Azzurro Pan di Zucchero di Iglesias ha ripulito con un gruppo di volontari il tratto di strada provinciale 83 lungo la costa Nebida-Masua. I centri antiviolenza istituzionali della Sardegna riuniti per operare in rete e mettere in atto delle strategie di intervento sempre più efficaci. E questo è il tema che verrà trattato giovedì 19 giugno a Carbonia in una tavola rotonda organizzata dalla gestione commissariale dell'ex provincia Carbonia e Iglesias. Vediamo i dettagli nel servizio. Una tavola rotonda di confronto con i centri antiviolenza istituzionali della Sardegna su metodi di lavoro casistica problematiche per studiare insieme nuove strategie di intervento in grado di sostenere le vittime di violenza e attuare azioni di prevenzione. E' questo l'obiettivo dell'incontro che l'ex provincia Carbonia e Iglesias con Network Etico On Loose ha organizzato per giovedì prossimo 19 giugno a Carbonia nella sala conferenze dell'ex provincia in Via Mazzini. La riunione sarà preceduta da un tavolo interistituzionale nel quale prenderanno parte tutti i soggetti firmatari del protocollo di intesa firmato nel maggio del 2012 tra diverse istituzioni e organismi per condividere modalità operative e gestione in rete territoriale di percorsi di accoglienza sostegno e di uscita dalla violenza. In tale occasione i partner descriveranno il loro coinvolgimento e le azioni da portare avanti in merito al protocollo. I soggetti firmatari saranno portati a conoscenza delle procedure attivate e seguite dal Centro della Cultura della Non-Violenza Provinciale nell'iter per la presa in carico dell'utente e della particolarità dell'utenza finora assistita. Un laboratorio di scartoria ovvero una sartoria dove si utilizzano gli scarti di stoffe. E' questo il progetto che l'assessore alle politiche sociali del Comune di Carbonia Maria Marongiu avviera dal prossimo giovedì 19 giugno nell'ambito dei servizi distrettuali rivolti ai giovani e comprende cinque incontri durante i quali i partecipanti svilupperanno la loro creatività nel cucire scarti di stoffa e realizzare accessori. Pensiamo che il laboratorio di scartoria proposto dal Centro Giovani in occasione dell'Anno Mondiale del Riciclo e della Sostenibilità ha spiegato l'assessore consenta di sviluppare e ampliare le abilità manuali dei ragazzi e delle ragazze. In ogni famiglia c'è sempre qualcosa da riusare fare con ciò che si ha e soprattutto con ciò che si sarebbe buttato se. Tutto questo può essere molto importante per sensibilizzare i giovani verso atteggiamenti che evitino lo spreco e valorizzino il riutilizzo ludico e creativo dei materiali non più in uso. Il laboratorio è gratuito ed è aperto a tutti. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al centro giovani distrittuale presso il centro polivalente ex dopo lavoro di Piazza Primo Maggio a Carbonia nei seguenti giorni martedì mercoledì giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 4 incontri per conoscere il breve di Villa di Chiesa lo statuto più antico della città di Iglesias risalente al 1324 all'amministrazione comunale in collaborazione con la società cooperativa a memoria storica propone una serie di 4 incontri nei sabati del mese di giugno alle 17.30 nell'archivio storico del comune il primo appuntamento è in programma questa sera e per l'occasione in ogni incontro sarà esposto il documento originale parliamo di sport calcio le difficoltà economiche della GS Barbusi impediscono alla squadra di iscriversi al campionato di seconda categoria Antonio Pistis ha intervistato il vicepresidente Bruno Angioni che chiede il sostegno di possibili sponsor vediamo Barbusi periferia di Carbonia poco più di 500 anime è una squadra di calcio che rischia di scomparire già il club del presidente Walter Cao del mister Paolo Azzori a causa della crisi economica diffusa chiede un sostegno e lo fa in maniera pubblica allora noi siamo in difficoltà avevamo deciso quest'anno di purtroppo dopo tanti anni 40 anni noi facciamo sport a Barbusi che per la seconda categoria stava diventando ormai insostenibile quindi avevamo deciso di non iscrivere la squadra alla seconda categoria e cedendo il titolo questo dovuto al fatto che appunto le difficoltà economiche siamo 4-5 dirigenti ma soprattutto la mancanza di sponsor sta mettendo a rischio da portare a termine il campionato quindi la crisi economica di questo territorio si è riflettuta anche in modo pesante nelle piccole società come la nostra e anche una seconda categoria ci sono risorse che per noi sono diventate ormai insostenibili senza l'aiuto degli sponsor la storia che vi raccontiamo ha un misto di tristezza e di romantico se da un lato preoccupa l'ipotesi di una mancata iscrizione dei giallorossi dall'altro colpiscono e affascinano l'attaccamento alla maglia giallorossa e al gruppo di una ventina di ragazzi che di separarsi non ne vogliono proprio sapere e men che meno ora ancora il vicepresidente Angioni il rischio è proprio quello e questo ci dispiace moltissimo a noi c'è un grande gruppo un allenatore dei giocatori senza dire una novietà una famiglia veramente ci dispiace veramente l'abbiamo comunicata ai ragazzi i ragazzi sono rimasti molto male si stanno anche dando da fare anche loro e questo per quello abbiamo tenuto anche in stand by questa decisione abbiamo tempo fino a metà luglio stiamo cercando di vedere se ci sono le condizioni per poter riscrivere la squadra in seconda categoria e continuare ormai il cammino con questo gruppo che merita veramente di poter continuare perché sono oltre dei bravi calciatori sono un gruppo stupendo i bravissimi ragazzi dai trascinatori Andrea Pinna e Marco Mei al capitano Graziano Piras che ha salutato il calcio nell'ultima partita ma non abbandonerà il GS Barbusi per continuare con i giovani interessanti come Fabrizio Mei centrocampista del 95 ex Carbonia o l'attaccante Mattia Corona già richiesto da altre squadre il futuro capitano risponde al nome di Paolo Pinna arrivano invece da Iglesias i fratelli De Marti Sangioni Marras Congia Mereo Upani e l'esterno Massimo Pinna che in due anni ha realizzato quasi 20 gol se la squadra riuscirà ad iscriversilo dovrà anche al lavoro costante di altri due giocatori Claudio Pinna e Emiliano Perda oltre alla capitano Piras la squadra quest'anno si è salvata con qualche affanno alla penultima giornata ed è stata una gran festa quella della salvezza fa specie che nessuno prenda un euro e come non si vede altrove i ragazzi cercano di autofinanziarsi anche per la prossima stagione l'appello arriva in tempo alle istituzioni perché questa storia particolare non passa inosservata perché qui vogliono giocare insieme ancora per passione ma sempre nel Barbusi Noi speriamo vivamente di riuscire a trovare anche con poche centinaia di euro qualche imprenditore locale che possa mettere un cartello al campo sportivo e quindi aiutarci a dare una mano a iscrivere la squadra anche in questo campionato a rappresentare la città di Carbonia noi siamo nel comune di Carbonia oltre alla prima squadra anche qualche squadra nelle categorie inferiori per dar modo a questi ragazzi che se lo merita non ripeto di poter continuare a giocare in seconda categoria a Barbusi Questa era l'ultima notizia vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alle prossime edizioni Per domani nel Sulcis sono previsti piovaschi alternati e schiarite il vento soffia da ovest con intensità di 18 km orari possibili raffiche fino a 25 km orari temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 29 gradi